salve canzoni musica classica musica rock siete esperti in uno di questi tre generi allora questa è la vostra occasione stiamo preparando un nuovo ricchissimo gioco per rete 4 se volete partecipare prendete la cartolina con vostro nome cognome indirizzo e la spedite a rete 4 casella postale 10579 201 00 milano spedite subito la cartolina non perdete tempo perché nel nostro gioco un secondo vale un milione naturalmente su rete 4